è un modo per raccontare una storia in maniera molto efficace a volte veloce a volte meno veloce però sostanzialmente gradevole a livello estetico un gancio estetico molto potente un'immagine che risolve tutto in una maniera molto veloce però che può contenere moltissime informazioni in pochissimo spazio magari un'immagine stampata ogni immagine proiettata eccetera quindi una sorta di sintesi della realtà fatta in maniera in maniera molto efficace ecco allora viva mi vengono in mente mi vengono in mente due fotografi in questo momento il primo è un fotografo contemporaneo ed è reed young fotografo che forse non conoscete quasi coetanei siamo quasi coetane il suo modo di fotografare mi ha influenzato moltissimo perché oltre aver studiato nel posto in cui ho studiato io ha creato un suo ha trovato nel suo tra l'altro il suo registro estetico sul registro di racconto che era quello di illuminare di fare dei ritratti contestualizzati nello spazio con una tecnica simile a quella che sto usando io e qui sto parlando solo di un livello prettamente tecnico mi piace molto come lui racconta le storie tramite ritratti fa solo ritratti di persone immerse nel loro spazio nel loro ambiente di lavoro nel loro contesto eccetera e con delle ottime didascalie e lì è stata una delle prime volte in cui ho visto fotografia contemporanea funzionare molto bene a livello giornalistico dove c'è una bella immagine che riassume che risolve tutto in un'immagine e un'ottima didascalia e questo il primo è il primo riferimento molto concreto che mi viene in mente quindi fotografia informativa e il secondo che mi viene in mente in qualche modo anche scontato però stavo per dirvi nadal kander però in realtà vorrei andare più indietro e dirvi forse manrei e quindi un ritrattista che ha sperimentato moltissimo con le tecniche quindi con l'astrazione della realtà e col trasformare i visi soggetti in cose in opere d'arte quindi con tecniche anche di stampa con tecniche di scatto che che rendevano una cosa molto concreta un viso una cosa molto riconoscibile tangibile lo rendevano astratto e quindi forse questi due mondi mi interessano molto perché mi interessa molto il ritratto che informa ma anche il ritratto che fa vedere dei lati diversi della della realtà e quindi al momento ti direi questi due ce ne sarebbero tanti altri non è veramente difficile asciugare e darti un nome solo quindi già due ecco questo mi viene in mente intanto ma io anno dopo anno che che lavoro con la fotografia penso proprio di sì nel senso che se da prima mi veniva mi veniva in mente che la fotografia potesse essere usata come una sorta di di modo veloce per raccontare qualcosa che faccio un esempio disegnare più lento scolpire più lento raccontare per parole per parole potrebbe essere più lento fotografare un quasi un'azione immediata secondo me la fotografia si sta rivelando per me giorno dopo giorno un linguaggio estremamente ricercato laddove tipo la foto singola è così tanto parte di un racconto che puoi fare che si estende oltre quella foto quindi una foto prima una foto dopo un racconto fatto di immagini che dura molto tempo scandito dal tempo quindi fotografato per un lasso di tempo molto lungo può essere super eloquente e può essere super ricercato perché un'immagine è un dentro di sé si porta così tante sfaccettature che possono essere lette in una maniera così diversa da ogni persona che che diventa davvero un mezzo di comunicazione super molto elegante e quindi c'è un sacco da dire c'è tipo siamo vabbè rispetto a altre forme di comunicazione d'arte siamo veramente agli albori sì anno dopo anno vedo vedo cose io mi sono fermato in qualche modo sto utilizzando una fetta molto specifica del mezzo fotografico ma se guardo autori che tirano il mezzo che che spingono un po' i come dire che cercano altro e utilizzano la fotografia per fare altro penso proprio di sì ci sono tantissimi altri esempi che mi vengono in mente persone che utilizzano la fotografia di fiction ad esempio la fotografia che non deve essere per forza una registrazione della realtà ma un modo per raccontare temi storiche altrimenti sarebbero invisibili e quindi visualizzarle successivamente a quando sono successe e metterle in scena quindi mischiare la realtà con la finzione e quindi magari far vedere far vedere qualcosa mischiare qualcosa che è successo realmente con la rappresentazione di quella cosa lì mischiare qualcosa che è successo veramente con qualcosa di fittizio o riproporre in chiave fotografica qualcosa che non abbiamo potuto vedere quindi rappresentarlo come se la fotografia fosse grafica come se la fotografia fosse un racconto del passato quindi sicuramente sì cioè la risposta è sì sì a mani basse ci sono tanti tanti modi per farlo però insomma io sono super fiducioso e lo sto scoprendo lo sto scoprendo giorno dopo giorno e spero insomma di approfondire ancora di più adesso per adesso sto esplorando una fetta minuscola e piano piano ne troverò altre la prima cosa che mi viene in mente è la serietà cioè il modo in cui prendi un lavoro che agli occhi di molti può sembrare frivolo tipo la fotografia può sembrare ancora riferita alla sfera del del cazzeggio secondo me per molti non è non è un mestiere lavorare in un contesto americano mi ha aiutato moltissimo a prendere tutto molto seriamente lavorare come assistente lavorare con la responsabilità di lavorare per un altro è stato è stato insomma per me è stato fondamentale mia mia responsabilizzato molto questa è forse la prima cosa che mi mente la responsabilizzazione del mestiere e poi in qualche modo la struttura anche che dai al tuo lavoro c'è la serietà con cui prendi ogni singolo passaggio lui è un control freak ogni cosa viene disegnata preparata mi ha fatto io lavoro in contesto editoriale quindi con molta improvvisazione ma spesso preparo magari immagino schematizzo gli set luci perché ho bisogno di qualcosa di concreto qui aggrapparmi perché voglio una certezza e anche se vado in un posto ignoto e lavorare con persone che hanno tutto sotto controllo mi ha aiutato a capire che quello è veramente l'unica cosa qui poter fare riferimento a dei punti saldi sapere che tecnicamente sai gestirtela che sai come approcciare il lavoro anche se poi dovrai cambiare tutto probabilmente ma avere una sorta di direzione e prepararsi prima al lavoro la preparazione al lavoro quella per me quella è stata la lezione più fondamentale e poi la serietà insomma il mestiere il fatto di capire che se non sei un artista anche se sei un artista in realtà la fotografia è un mestiere ed è una cosa da prendere se non con non solo come linguaggio ma anche come mestiere come artigian come artigianalità del dell'atto fotografico è da prendere sul serio perché è una questione importante una questione sì cioè ci sono anni anni decenni secoli di storia dietro e vanno rispettati ecco questo non è una bella domanda ragazzi nel senso mi piace molto lavoro a sodo nel senso ti dico siccome nasce da sensi di qualche modo sensi di colpa del fatto che è un mestiere frivolo che può sembrare un mestiere frivolo e sono cresciuto nella famiglia in cui quello che conta è quello che producino un artigiano mia mamma è una lavoratrice tutto ciò che non è che non produce qualcosa di tangibile può sembrare cazzeggio e allora perlomeno lavorare duro può sembrare una sorta di riscatto verso questo contro questa questa idea ma mi sento mi piace sentirmi utile mi piace lavorare per risolvere problemi o che mi credo da solo che mi vengono così scaricati addosso perché la fotografia un buon mezzo come per per risolverli o per per raccontare storie che altrimenti sarebbe difficile raccontare e il fatto di lavorare sodo è solo uno dei tanti modi in cui lavorare secondo me è utile perché perché mi realizza a livello personale non è non è l'unico modo conosco fotografi che che scattano una foto al mese sono i lavori meravigliosi e mille volte più profondi di quello che faccio io se io penso al mio lavoro che è legato al all output o editoriale o commerciale un lavoro personale io ho bisogno di vedere un altro cioè io bisogno di vedere qualcosa di concreto e l'unico modo in cui lo riesco a vedere applicandomi tanto e applicandomi seriamente con tante cioè con sputandoci sangue è l'unico modo nel senso non riesco a pensare a non riesco a farlo in un altro modo e non è sano non è l'unico modo è solo il modo in cui lo faccio io c'è tutto qua si ricollega un po alla domanda di prima nel senso che secondo me essere ossessionati è un modo in qualche modo è un modo molto malsano di lavorare ma è anche uno dei modi che per un certo tipo di personalità come la mia funziona meglio è malsano perché stancante malsano perché l'ossessione ti porta ti porta appunto a perdere molto tempo a investirne tanto e perdere tantissimo a perdere come a trascurare alcuni aspetti della vita normale dello scorrimento normale della vita che dovrebbero esserci e quindi di soprattutto negli anni i primi anni di questo lavoro di investire tanto tempo a ragionarci sopra e quindi a trascurare cose tipo relazioni rapporti insomma è un è un sacrificio non si parla di insomma di andare in guerra si parla di un sacrificio comunque che per alcuni rappresenta per le persone attorno a me forse è rappresentato un disagio mi sono appena tolto una sorta di animale orribile del collo e merda era una scusa era una sorta di blatta succhi a sangue mi immaginavo e quindi l'ossessione non la sponsorizzo in nessun modo non è che ne vado fiero però nel mio caso essendo una stata una persona molto distratta essendo stata una persona molto poco attenta siccome agli eventi attorno a me alle cose agli oggetti alle persone eccetera ero abbastanza distratto ero molto distratto da ragazzino la fotografia ha come di posto l'attenzione su delle cose che che poi sono diventate da zero importanti a super importanti quindi a guardare la forma delle cose a capire a cercare di capire un processo produttivo se parlo di fotografia industriale eccetera ma mi ha aiutato tantissimo a essere una persona più attenta e tipo per una persona zero attenta a diventare molto attenta c'è bisogno di una sorta di shock o qualcosa e l'ossessione secondo me rappresenta quel tipo di shock tipo la mia ex ragazza che mi dice ma non può essere che stai cinque ore a fare i colori di questa foto invece è no cazzo è l'unico modo che avevo io per reagire a come dire al nulla che probabilmente avevo prima perché per me la fotografia è stata una scoperta tarda cioè alla fine io lo faccio da sei anni sette anni meno di dieci anni per me è tipo ancora tutto nuovo e scoprirla e scoprire le potenzialità eccetera se sei ingordo diventa un'ossessione non è una cosa graduale tipo subito voglio sapere tutto subito e adesso mi sto iniziando a controllare un po' è un super potere di essere una di portarsi dietro tutto l'immaginario del passato di essere super romantica di essere informativa di essere come dire molto di essere grafica di essere elegante di essere ancora molto affascinante agli occhi di chi non la fa eccetera quindi ha bisogno di un'ossessione dietro ci sta che uno è ma impazzisce che la fa in maniera ossessiva se la fa in maniera troppo schematica poi io lavoro in maniera commerciale no lavoro in maniera editoriale però alla fine per cliente editoriale però alla fine mi piace che sia questa componente pazza instabile no trovo molto anche qui lo trovo molto rispettoso nei confronti di ciò che di com'è nata no la scoperta una roba scientifica mezzo una sorta di alchemico in mezzo al secondo me il fatto che sia tutto imprevedibile difficile faticato eccetera figo figo sono contento che sia così non rimpiango la fondazione allora l'esperienza della fondazione è stata interessantissima perché è stato il primo lavoro lungo molto faticato fotticoso fatto assieme ad altre persone quindi in questo caso è stato un lavoro a tre si dice a sei mani perché erano c'ero io lucia del zotto che una graphic designer e gabriella de domenico che è una sociologa abbiamo lavorato ci siamo iscritti a questo concorso quasi per caso nella fondazione bevilacqua ogni anno indice una sorta di concorso per i giovani artisti che al tempo quando abbiamo frequentato noi l'abbiamo fatto noi era la 99esima edizione quindi 99 anni che mi ha fatto questa questo concorso abbiamo deciso di partecipare per gioco portando un lavoro decidendo di formare come collettivo questo gruppo che non esisteva abbiamo deciso di metterci assieme di condividere queste esperienze che avevamo e di vedere se riuscivamo a fare qualcosa assieme abbiamo pensato a questo lavoro che era legato al territorio che era un tema a cui tutti siamo affezionati e anch'io tantissimo come dicevo prima durante l'incontro una cosa che non riesco quasi mai a separare dal mio lavoro e abbiamo deciso di parlare di pordenone come città però guardando una chiave di lettura diversa cioè utilizzando l'espediente di alcuni omicidi avvenuti dall'anno in cui siamo nati noi dall'87 al 2000 e al tempo il 2015 e di utilizzarli come chiave di lettura per raccontare il cambiamento che era avvenuto in questa città primo e secondo per raccontare quello che succede una città di provincia sconosciuta ai più quando in questa città avviene un omicidio e quindi avevamo usato pordenone come caso esempio che rappresentava in realtà altri casi tipo a vetrana tipo novi ligure eccetera ed era una sorta di opera abbiamo creato questo libro d'artista che era creato con foto che avevo realizzato con foto che avevo trovato con interventi grafici di lucia che aveva fatto dei grafici delle infografiche dei siamo andati a scartabellare tra archivi abbiamo fatto delle interviste medici legali eccetera è stato un twist molto oscuro di analisi sulla nostra città e poi un'occasione per lavorare assieme con altre personalità e di produrre un lavoro totalmente autorale cioè era un lavoro totalmente legato al senza nessun tipo di committenza eccetera e quindi ha prodotto delle immagini di cui sono molto contento ha prodotto un oggetto che è l'oggetto libro libro d'artista in coppia unica di cui sono molto fiero e ha prodotto una mostra che aveva praticamente degli approfondimenti su questo libro quindi c'era il libro ed altre informazioni su questi muri appese e ha vinto questo premio che noi siamo andati da non essere un collettivo a vincere un premio della fondazione di una fondazione importante in italia che ci ha permesso di fare un altro lavoro che è stato presentato questo inverno sulla stessa scia cioè a me ha dato l'occasione per esempio di esplorare un aspetto nuovo che è quello di non usare per forza immagini realizzate da me ma di fare ricerca iconografica di e soprattutto di sbattersi per realizzare per come dire in forma di art director in qualche modo di asciugare informazioni di studiare di leggere e di rendere quelle informazioni visibili non per forza tramite fotografie ho commissionato delle statue a un artigiano ho ricercato dei video sono andato a cercare siamo andati a cercare i monitor più giusti per rappresentare questi video abbiamo fatto delle interviste anche qui sono lavori molto interdisciplinari o così con diversi media tra cui c'è anche la fotografia che se com'è danno tipo questi danno nuova linfa se se tu mi chiedi c'è ancora qualcosa da dire in fotografia è tipo sì se facciamo questi questo genere di lavori ce n'è ancora di più perché la mischia ad altri generi e quindi riesce a raccontare storie ancora più complesse quello per me è ancora un'ottima esperienza stiamo sono molto contento di quello che stiamo facendo assieme con loro moltissime delle immagini che piacciono a me che amo vedere amo guardare leggo volentieri sono immagini in cui la luce ha in qualche modo un non dico un ruolo fondamentale ma è uno dei dei modi utili per descrivere quella situazione e renderla interessante laddove se fosse stata fotografata in una maniera peggiore tra virgolette quella situazione non sarebbe interessante non sarebbe interessante da osservare quindi è importante anche solo per il la luce il controllo della luce è importante anche solo per un fatto di di contenuto anche quindi di riferimento verso il contenuto cioè ti permette di osservare le cose in una maniera ti permette di osservare ti permette di guardarle in quanto interessanti la luce è nel mio caso è un io non come dicevo prima non amo il cogliere il momento non amo non mi interessa praticamente l'espressione di una persona o meglio non mi interessa molto l'espressione di una persona non mi interessa il il momento che c'è in quella in quell'atto in quel momento fotografico interessa che la persona sia assuma una certa postura abbia una certa espressione e il la luce al come dire lo scopo di di rendere altro di rendere interessante di rendere isolare momenti che di solito non verrebbero badati e secondo me è uno dei tanti poteri che alla fotografia quindi di intervenire sulla luce in maniera artificiale laddove magari un fotogiornalista o un fotografo di reportage non può farlo a me interessa molto il fatto che anche solo per il fatto che io prendo una persona la posso mettere sotto la luce che voglio io mi permette di guardarla sotto questa luce diversa e da lì in poi la posso controllare io riesco a fargli assumere un certo tipo di espressione è uno dei tanti modi per guardare le cose non è il modo però è uno dei modi forse più curiosi più per me più 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 stimolanti può cambiare veramente la foto da così e così può cambiare l'espressione può cambiare l'atmosfera eccetera tu puoi veramente controllare quello che sta succedendo e il controllo della luce è questo è decidere l'atmosfera di un'immagine e se si può fare questo forse il tuo stile il tuo come dire il tuo il tuo la tua opinione come fotografo il tuo modo di trattare il soggetto possono essere molto precisi cosa che magari non sono se devi lavorare nel contesto non so come dire senza senza controllo controllo della luce è un potere così ulteriore rispetto già la fotografia seleziona se fotografi anche selezionando tramite la luce ancora più potente per me è la fotografia che amo io che mi ha cambiato la vita allora ti devo dire un libro di a cui in qualche modo preso parte ed è radicalia di piero martinello che un libro contemporaneo uscito l'anno scorso un libro a cui sono affezionato perché sono siamo amici e lo rispetto moltissimo lo stimolo miro tantissimo come autore mi ha cambiato la vita perché mi ha fatto vedere un libro composto su diversi temati su una unica tematica tramite diversi registri sostanzialmente un trattato sul ritratto è un sfrutta il ritratto o comunque i generi del ritratto per raccontare una storia che quella di persone che hanno fatto scelte di vita radicali e secondo me padroneggiato particolarmente bene da un ritrattista cioè un fotografo che ha fatto moltissima ricerca quindi ha trovato persone che hanno fatto scelte di vita radicali nella mafia ha fatto trovato persone che hanno fatto scelte di vita radicali non decise da loro perché magari sono pazzi quindi matti di paese o persone che l'hanno fatto per fede quindi monache di clausura o ragazzi che vadono al fanno scelte di vita radicali perché vadano la realtà drogandosi e quindi ha raccontato un'italia ha raccontato un come dire un certo tipo di italia un certo tipo di italia molto autentica seppur in qualche modo sbagliata e fragile l'ha raccontato siccome molto bene tramite delle foto che ha fatto lui o che ha trovato e mi ha aperto moltissimo a questa idea che racconto mi ha aperto diciamo così il gli orizzonti su cosa è un libro fotografico che non è un libro di foto e basta un libro di una raccolta di immagini ma è un libro che racconta una storia tramite le fotografie che magari raccontata parole sarebbe molto più difficile raccontare e ha dimostrato il modo che alla fotografia di essere capace di asciugare di semplificare e di iconizzare certe cose ed è un libro a cui ho collaborato aiutando aiutandolo a trovare alcuni personaggi ma da fotografare illuminando delle cose con lui eccetera ma secondo me in generale si mischiano molto rispetto che ho per piero e il libro e la passione che ho per il libro stesso però è un libro che consiglio molto così un libro bellissimo su quasi d'altri tempi c'è un libro che ha un respiro d'altri tempi quello lì forse il più è la cosa più bella che ho visto negli ultimi anni di un attore che conoscono tra l'altro no non ascolto musicalmente scatto perché spesso non ce n'è non c'è il mezzo non c'è tipo una cassa non lavoro così tanto in studio da poter creare sta atmosfera anzi non sinceramente non mi sono mai posto neanche il problema però mi viene in mente che ascolto musica quando lavoro alle immagini quando le seleziono e mi piace questa idea che ci siano diversi momenti nella realizzazione di una foto c'è il momento in cui la scatti il momento in cui la scegli il momento in cui la lavori e sono momenti molto diversi che tipo ogni tu puoi fare questi questi tre atti in come dire provando sensazioni molto diverse tipo scatti in una situazione di magari di urgenza poi editi una situazione di fretta o di di attenzione molto lucida e poi i lavori le immagini una situazione di rilassatezza e siccome sono tipo e tutti questi elementi che sono sempre parte di te producono la roba l'oggetto finale e questo oggetto finale si porta dietro tutti questi aspetti che sei tu e secondo me c'è qualcosa di magico e quando lavora l'immagine sì quando scelgo e quando lavora l'immagine c'è moltissimo di ascolto tantissima musica io fagocito musica di di generi diversi a seconda di di quanta quanto bisogna di sentirmi a casa se ho bisogno di sentirmi coccolato ascolto qualcosa se ho bisogno di sentirmi di sentirmi non so quello temerario ascolto un certo tipo di ascolto punk se ascolto jazz che ascoltavo con mio papà mi sento più coccolato più tranquillo più più protetto c'è sempre un c'è a un è uno spazio però è sicuramente la fotografia la fotografia e la e la musica in qualche punto del mio lavoro si trovano assieme non lo sponsorizzo cioè non è una cosa di cui parlo spesso però però secondo me c'è un momento in cui si incrociano non è sicuramente nel momento dello scatto perché non c'è tempo e non non è giù non voglio imporre la mia atmosfera a un altro però è bello che venga fuori quella atmosfera lì che cercavi nei vari altri passaggi che si sono quindi l'editing e poi la post produzione secondo me qualcosa viene fuori di musica in un'immagine finale se no sarebbe troppo asciutto sarebbe troppo secco e sterile beh non è così difficile in realtà ho detto parlato troppo presto cioè secondo me io parlo per me io voglio parlare per me perché non perché 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 per alcuni la fotografia è veramente un un linguaggio così raffinato e così 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 dedicato e personale che che io non mi voglio non voglio mettermi al non voglio in qualche modo parlare per queste persone perché non riesco a non sono io e le rispetto tantissimo e non voglio parlare per loro e nel mio caso la fotografia gli elementi per fare una buona fotografia sono almeno due cioè il contenuto formale c'è l'informazione che tu riesci a trasmettere e quindi il fatto che creare una buona immagine perché era una buona immagine c'è bisogno che quella fotografia ti informi che ti lasci più informato rispetto a quando non l'avevi vista e per fare questo è importante che venga fatto in maniera se non gradevole per lo meno diversa cioè c'è bisogno di un fattore di interesse qualcosa che 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 agganci chi la guarda per me la fotografia è ancora deve essere informativa ma bella quindi deve fare qualcosa perché tu la guardi e per farlo è devi essere gradevole o sgradevole o interessante o curiosa ci deve essere qualcosa a cui agganciarti altrimenti è per me non è interessante io non mi ritrovo a guardarla magari poi nel contesto di un racconto delicato guardo anche altri tipi di immagini però io sono molto interessato all'immagine che risolve tutto l'immagine grafica l'immagine che racconta velocemente perché funziona perché un'immagine importante un'immagine che riesce a riassumere a sintetizzare è bella e la trovo la trova affascinante quindi informazione e bellezza sono tipo le due le due caratteristiche secondo me che deve avere un'immagine per essere per essere per me bella ecco per me giusta o giusta ecco forse non tanto nel senso che non l'ho fatto tipo fatto un po di po di video making di direzione della fotografia del video making io più che interessato io trovo che siano più efficaci io ammetto che un video sia più efficace di una immagine io lo ammetto perché lo vedo nei risultati cioè raccontare la storia di qualcuno tramite un video mi emoziona forse mi emoziona di più nel breve periodo però nel lungo periodo ti può guardare una serie di immagini mi rimane di più lo trovo più iconico un video lo trovo più tra virgolette passate il termine più frivolo meno poetico invece l'immagine si porta dietro un immaginario ancora tanto tanto così tanto magico il video lo è meno però più chiaro secondo me cioè io io quando guardo qualcosa di informativo trovo più informativo e velocemente assimilabile il video se invece guardo qualcosa che regge sul lungo periodo che rimane iconico rimane storico nel tempo penso alla fotografia e altri linguaggi mi vengono in mente la commissione tra tra la foto e l'altro quindi quel lavoro che parlavo di cui parlava per la bevita quella masa quella roba lì è informativa perché è un racconto su più piani c'è il video c'è la foto c'è il documento c'è la foto storica c'è la foto fittizia eccetera quella cosa lì è una bomba di informazioni che ti saltano addosso e quello è interessante però sono ancora molto fermo sulla fotografia in sé tipo l'idea che tu fai un'immagine e crei quell'immagine di crei una serie di immagini molto romantico e se lo porterà spero sempre dietro questo immaginario qui del fatto che è romantica la fotografia è un è molto raffinata interpretabile eccetera il video è più chiaro e quindi si perde un po di questa magia e il commissione di informazioni video audio documento eccetera è chiaro ma è meno romantico la fotografia è tutto aperto possibile no meno chiaro però più cioè a me interessa questa cosa qui tra l'altro faccio un tipo di fotografia che molto cioè che sembra essere molto oggettivo e quindi è super contraddittorio cioè c'è il fatto che vuole essere oggettivo ma non lo è e poi anche romantico perché fotografia cioè io parlo nella mente questa è la mia sessione e quindi si porta dietro tutte queste queste mille sfaccettature che il video essendo più chiaro magari non ha però non funziona molto bene con altri mezzi la fotografia e lo ammetto cioè col testo con ecco mi piace molto il mix testo e fotografia tantissimo cioè lo trovo una cosa i libri fotografici che utilizzano fortemente la parola lo scritto mi piacciono dico cioè mi riescono veramente emozionare molto di più di un video poi un video dico il video parlo di un audio misto alle immagini in movimento è ovvio è più simile a realtà è più aggancia più velocemente perché basta mettere immagini suggestive con musica molto suggestiva effettivamente tu lo senti cioè tutto molto concreto però la fotografia è più delicata e più lontana dalla realtà è più si porta dietro l'immaginario del fatto che non so che è stata fatta insomma di come si è arrivati a scoprirla di del fatto che c'è stato il bianco e nero del fatto che c'è il fotogiornalismo il fatto che diventa quasi un intervento grafico se la utilizzi come se fotografi come un grafico e tanto più più e tanto più misterioso e fatto che più misteriosa è proprio una cosa bella senza poi dilungarsi insomma in altri discorsi tipo il fotogiornalismo l'etica eccetera io la trovo fasci affascinante ecco questo sicuramente tutto qua e beve e blocca l'intervista grazie grazie